Ciao, sono Angelo, speaker di Team Social Radio, inviato per All Music Italia. Oggi, ragazzi, sono qui con Matteo Paulillo. Come stai? Tutto bene, tu? Molto bene, grazie. Allora, nel tuo singolo Edo Freestyle rispondi alla domanda se sei un cantante o un attore e dici che sei un artista, ma se dovessi dire quello che ti diverte di più, qual è? Mi divertono entrambe le cose. Diciamo che stare su un palco a cantare ti permette di avere il contatto diretto col pubblico, quindi magari è più divertente nell'immediato, invece recitare su un set è un processo più lungo, però è divertente allo stesso modo perché magari sei con i colleghi, sei con la troupe, ti diverti con quello che succede. Comunque, quando puoi anche venire qua con i ragazzi, cosa pensi di portarti a casa da giffoni con i ragazzi quando passi su Red Carpet e che ti chiedono le foto? Diciamo che due anni fa, quando sono stato qui, è stata una bellissima esperienza perché ci sono tanti ragazzi molto appassionati che ti fanno delle domande anche che non ti aspetti e quindi sicuramente, e mi ha insegnato tanto, quindi sicuramente mi aspetto di apprendere qualcos'altro anche quest'anno. Ma tu ti senti un rapper? E' una gara di sguardi, eh? Sì. Vabbè, ma il tuo rapper preferito però chi è? Salmo. Salmo. E se dovessi fare un feat, un italiano e uno estero, cioè un internazionale? Ma, un feat in questo momento lo farei con Rkomi. Ok. E' internazionale, vabbè, sogno. Eh, sì, il tuo sogno, magari ci sta ascoltando, che ne sai. Sì, Drake, ciao, se ci stai ascoltando. Drake, se ci stai ascoltando, un bel feat con Matteo Paolillo. Ma un pregio, un difetto di Matteo Paolillo? Il pregio è che non ho difetti. No, non lo so, non mi riesco a autodefinire. Il mio difetto è che faccio troppe cose. Il mio pregio è che però mi riesco a organizzare bene. Va bene. E cosa canti sotto la doccia? Sotto la doccia non canto perché canto già troppo fuori, quindi... Ok, ok. Ti ringrazio, ci puoi fare un saluto agli amici di Team Social Radio? Ciao agli amici di Team Social Radio, un bacio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.